Cori, qua abbiamo... Lei è il direttore, il maestro, l'insegnante, il coach, il vocal coach... Oh, benissimo, perfetto! Grazie a Cicco! Una festa grande, quindi ci sono i bambini, poi ci sarà Antonella, ci sono altri amici che verranno a cantare, quindi non prendetelo come un concerto, ma è una grande festa, perché in 60 anni vi festeggio una volta sola, per una grande festa e insieme a voi tutti. Grazie! Mi sento anche più giovane stasera, più giovane e più magro. Dobbiamo invitare sul palco, dov'è? Canterà insieme a me Antonella... Ah, scusate, scusate, scusate. Sì, scusate! Sì, scusate! Sì, scusate! Sì, scusate! Un giusto pieno 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 Un giusto pieno